Alvia la fusione strategica tra la Banca del Gran Sasso d'Italia e il Banco Marchigiano. Nasce così una nuova forte BCC interregionale. Il nuovo istituto di credito potrà contare su 28 filiali divise su 6 province abruzzesi e marchigiane, che serviranno ben 106 comuni. Sono in tutto 11.509 i soci, con un patrimonio netto di 75 milioni di euro. Una pagina importante per la storia della Banca del Gran Sasso d'Italia, presieduta fino ad oggi da Giulio Cesare Sottanelli. È una fusione strategica perché? È una fusione strategica perché ce lo richiede il mercato, ce lo richiede il momento storico in cui stiamo vivendo. La nostra è l'ultima banca nata in Italia, quelle nate insieme a noi e prima di noi non hanno raggiunto il break even. Noi due anni che abbiamo fatto utili, la semestrale di quest'anno inutile, quindi è una fusione strategica, non di necessità. Questo ci tengo ovviamente a sottolinearlo, quindi noi siamo orgogliosi per essere arrivati dove siamo arrivati e lasciare un'istituzione forte a disposizione del territorio. Presidente del nuovo istituto di credito interregionale sarà Sandro Palombini. Quanti saranno gli sportelli e dove saranno ubicati? Allora, gli sportelli sono 25 nelle Marche e 3 quelli acquisiti dalla Banca del Gran Sasso, quindi arriveremo, inclusa la sede, a circa 28 sportelli bancari. Questo significa che comunque il progetto è solo all'inizio, quindi acquisiamo, quindi ci uniamo con la Banca del Gran Sasso entrando in un nuovo territorio ma partiamo dal presupposto probabilmente di aumentare il numero e la presenza. Questo è già, diciamo, nell'intese fra le due banche. Quindi il territorio abruzzese avrà dei vantaggi? Sicuramente sì, i vantaggi sono sia per il territorio abruzzese ma anche per noi che comunque in qualche modo aumentiamo, diversifichiamo la presenza del territorio anche andando a ricercare nuove attività che comunque sono presenti proprio sul territorio abruzzese, imprenditoria che fra l'altro a noi piace molto.